Appena eletto il sottoscritto padre Pedro Tramontin, come il sessantunesimo successore del nostro fondatore San Camilo, Gianfranco Lunardon, italiano, indiano, e fratello Paul Caboret, Burkina Bay. Non avevamo finito di piangere, padre Leo, che la pandemia Covid ha fatto piombare il pianeta intero a escavare la scia della cultura della morte, perché continuano e suscite le opere di Dio nello stesso tempo che noi viviamo la nostra vocazione. Grazie.